adesso c'è anche l'ordinanza ministeriale e quindi la notizia è sicura e ufficiale le elezioni inizieranno il 14 settembre mentre dal primo al 12 le scuole dovrebbero attivare i corsi di recupero per gli studenti in difficoltà in particolare per quelli che pur essendo stati promossi hanno riportato un giudizio negativo al termine dell'anno scolastico in una o più discipline per la verità sulle modalità di svolgimento di tali attività ci sono poche certezze perché le scuole dovranno programmarle ma lo dovranno fare in poco tempo non a caso qualcuno parla anche di collegi dei docenti convocati per fine agosto fatto che sta già sollevando dubbi e proteste delle organizzazioni sindacali per la verità per impedire lo svolgimento delle riunioni collegiali unicobas e cobas sardegna hanno già proclamato uno sciopero di due giorni per il 24 e il 25 agosto intanto si moltiplicano gli interrogativi a proposito dei banchi monoposto da acquistare per poter rendere più fruibili gli spazi scolastici i dirigenti scolastici hanno risposto alle rilevazioni proposte dal ministero e hanno chiesto 2 milioni e 400 mila banchi i produttori sostengono che sarà assolutamente impossibile garantire una fornitura di queste dimensioni mentre il commissario arcuri risponde che se i banchi non si troveranno in italia ci si potrà rivolgere all'estero e anche questo ovviamente alimenta le polemiche senza considerare che a parere di molti il prezzo medio di acquisto di 300 euro per le cosiddette sedute di nuova generazione ventilato nei giorni scorsi dal ministero sarebbe ampiamente esagerato anche se bisogna dire che proprio nelle ultime ore azzolina ha già detto che il prezzo non è certamente quello c'è poi ancora un'altra questione domenica 20 settembre si voterà per il referendum costituzionale e in diverse regioni anche per il voto amministrativo questo vuol dire che molte scuole inizieranno le lezioni il 14 settembre ma al più tardi venerdì 18 dovranno consegnare i locali ai comuni che li restituiranno non prima di mercoledì 23 una pausa forzata molto criticata dai dirigenti scolastici ma del tutto inevitabile perché ormai non ci sono più i tempi per cambiare le sedi delle sezioni elettorali altro problema è del tutto improbabile che per i primi giorni di settembre si possano concludere le operazioni per le emissioni in ruolo per la mobilità annuale e per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato facendo ricorso alle nuove graduatorie provinciali per le supplenze tutte operazioni con numeri in gioco molto consistenti la ministra infatti ha chiesto al mef l'autorizzazione per oltre 80 mila assunzioni mentre la mobilità annuale riguarderà decine di migliaia di insegnanti e di atta che hanno chiesto utilizzazione o assegnazione provvisoria per non parlare degli incarichi a tempo determinato che potrebbero arrivare alla cifra record di 250 mila supplenze annuali tutto questo in tempi a dir poco minimi a partire da oggi mancano al primo settembre meno di 30 giorni lavorativi contando anche le giornate di sabato se poi si escludono i sabati e si considera che nella settimana di ferragosto tutto procederà più chiarilento si arriva ad una ventina di giorni a disposizione che sembrano davvero pochi pochissimi a meno ovviamente di un miracolo che almeno in linea di principio in linea teorica non può essere escluso bene con la puntata odierna la nostra rubrica chiude l'attività per questo anno scolastico ci prendiamo una pausa per tutto il mese di agosto ritorneremo il 31 di agosto lunedì ma se volete continuare ad essere informati sulle novità potete comunque collegarvi con il nostro portale www.tecnicadellascuola.it che rimarrà attivo anche per tutto il mese di agosto buone vacanze buon riposo a tutti